Impegnerà avvicinatissimi mercoledì, derby contro l'ultima in classifica il Celano. Sì, è sempre una partita difficile, anzi difficilissima perché poi il Celano oggi non ha giocato. Non ho capito perché solo noi abbiamo giocato. Non nevica anche a Campobasso e a Melfi da dieci giorni ormai. Loro non giocano e noi giochiamo. Cioè qua è tutta una assurdità. Non riesco proprio a darmi una spiegazione, a parte adesso le porte chiuse. Perché non voglio neanche sprecare parole. Ripeto, adesso troveremo un campo alternativo perché giocare a porte chiuse è veramente avvilente. Loro purtroppo, è da un po' di tempo anche loro che non giocano per la questione della neve. Con noi loro hanno delle ultime possibilità per poter rientrare in gioco e noi dall'altro canto venderemo cara alla pelle perché sappiamo che se si riesce a fare il risultato là mettiamo ancora un tassello importante sulla classifica. Sì, mercoledì abbiamo una partita importante perché noi dobbiamo continuare a mantenere questa fortuna. Abbiamo rivinto dopo un po' di partite che non siamo stati molto fortunati. Però mercoledì è una partita importante per noi. Cercheremo di andare lì a fare punti.